Posso darvela il tu? Certo, devi. Questo è il salotto? Sì. E stai qui te il giorno? Io, guarda, quello è il mio posto di combattimento perché purtroppo non potendo uscire, non poter andare, non fa niente, sono qui e faccio, guardo la televisione. Guarda te, ma la guardi più la sera o anche durante il giorno? No, allora se ho da fare qualcosa mi va bene, però vado a fare la mattina, in genere esco con mio marito, facciamo tre chilometri. Tanto per tenersi un po' allenati. Ok, andate a fare la spesa. Poi torno a casa, facciamo da mangiare eccetera, poi il pomeriggio mi metto qui. Le prime cose che vedo vanno malissimo perché dormo sicuramente, perché proprio mi conciglia, tiro giù un po' le tapparelle. Penica dopo pranzo. Penica fantastica. Ok, 20 minuti. No, anche un'oretta. Ah, cacchio, dormi pronto. No, sì sì, poi guardo l'altro giorno e le serie, guardo tutto. Ok, e quindi ti piazzi qui? Mi piazzo qua, perché mi piace di traverso. Eh beh sì, è comodo perché ti puoi stendere. Sì, posso stendere oppure metto sulla gamba, sai ho delle posizioni anche rilassanti ma anche un po' particolari. In che senso sulla gamba? Così. E meia. Non ti viene mal di schiena così? No, per niente. Ah, ok. E questa è la tua posizione? Questa è la mia posizione di combattimento. Ok, qua in effetti. E il tuo marito dove si mette? No, mio marito sta nel suo studio di là perché non vuole partecipare al pomeriggio. Moridiana non partecipa? No, 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 lui sta di là. Ora che stai guardando questo periodo, qualche serie? L'ultima serie che ho visto è True Detective. Ah, Detective. Detective, che era una serie vecchia. però non l'avevo visto perché è un po' angosciante. È un po' angosciante. Per cui allora, devo dire, già il periodo che viviamo non è una roba rilassante. E tra l'altro l'hai preso il Covid? Sì, l'ho fatto. Ho fatto anche il vaccino però. Ma te hai fatto il vaccino? E beh, per motivi di età. Perché hai... 80. 80? Non te lo dico perché, ma veramente quando lo scopri me ne aspettavo molti meno. Sul serio, sono sincero. E qual è fatto? Ho fatto Pfizer. Hai fatto Pfizer, qui sei tranquillo. Dopo mezz'ora, quando sono stata lì, che vaccino mi fa, che vaccino mi fa, ho detto Pfizer. Ma ti sei sentita male dopo, no? No, ho avuto solamente un po' di doloretti alle gambe e 37,2 di febbre. Voglio dire no, niente. Lui sono le macchine, la vespa di mio marito che si è tenuto. Ah, lui è appassionato di vespe? No, lui è appassionato di queste cose terrificanti, sì. Le trovi brutte? No, insomma, possiamo anche farne a meno. Vabbè, non vi sembra brutto. No, non è brutta la vespa perché lì è rimasta impresso. Cioè che questo è il tuo marito? Sì, sì, è certo. Non ci gioca, no? No, beh, giocarsi non ci gioca. Poi ci sono due tapiri. Ah, fatti, i tapiri? Sì, sono due. Veramente ne avevo tre, poi uno l'ho portato per una trasmissione televisiva. Posso prendere, non ho mai preso un tapiro in mano, per esempio, il tapiro. Vabbè, pesa comunque. Sì, sì, pesa. Una cosa... E perché te l'ha regalato? Me l'hanno regalato perché ho detto qualche sciocchezza, ovviamente. Non ti ricordi che... Ne dico talmente tante che è difficile individuare. Leggi? Sei una lettrice? Sì, abbastanza. Faccio un po' fatica perché, ahimè, mi è venuta la maculopatia, per cui di sera faccio un po' fatica. Ah, la maculopatia... Cos'è la maculopatia? La maculopatia è una degenerazione della retina. Quindi vedi un po' meno? Molto meno. Ma con gli occhiali non si risolve? Ah, non si può risolvere. No, non si può risolvere. Cacchio. E quindi leggi un po' meno? Leggo un po' meno. La sera invece mi sono comprata queste lampadine fantastiche che appendi al libro e illuminano proprio... Ah, quella portatile. E sì, e poi anche se quello accanto dorme, te c'è quella, non dai noi. Infatti, mio marito dorme regolarmente e io non do noia così tanta. Ma il libro più bello, quello che ti è piaciuto di più, qual è? Ah, io amo molto le biografie storiche. Ah, sei appassionata di storia? Sì, di storia, sì. Ma anche italiana? Anche sì, sì. Infatti, tutto Montanelli, vedi. E qui... Ah, ma questo è il matrimonio? Della Giulia. Ah, non tu. No, io non abbiamo foto noi del nostro matrimonio. L'unica foto che ho è perché ci siamo dimenticati. Che senso? L'unica foto che ho è questa. Voi siete dimenticati del matrimonio? No, ci siamo dimenticati di fare fotografie. Ma è questa, sai che non vi ho sì. Io è Salerno. Ma sicuramente... Tu è Salerno, ma perché lo chiami per... Eh, non è mio parente, scusa, perché lo chiami. Non siamo troppo intimi, diamoci un senso. No, no, no. Ci stiamo... Perché lui si chiama Alberto Salerno. E te da sempre lo chiami Salerno. Da sempre. Salerno. Infatti, quando è nata mia figlia in sala parto, quando me l'hanno fatta vedere, ho detto mamma mia, sembra il Salerno. E tutti ci sono girati, chi è il Salerno? Perché sembrava l'idraulico che era passato di lì. Però non so perché mi viene così il Salerno. Però tu, ma non ci credo mai a dire Alberto, magari per fargli capire una cosa importante, Alberto. No, se devo fare una cosa importante più che mai è Salerno, perché scopi non capisci un cazzo. Ho capito. E se litigate è Salerno uguale? No, se litighiamo non ci chiamiamo. E nei momenti, cioè sarà un momento romantico in cui avrai detto Alberto? Beh, romantico dopo 45 anni. Vabbè, all'epoca. All'epoca, ma sempre Salerno. Lui sempre Salerno. Sì, sempre. Cioè, Salerno ti voglio bene. Sì, Salerno ti voglio bene. Beh, è fondamentale. Beh, l'importante è volersi bene, non è detto come ti chiami. No, no. E lui ti chiama Mara. Sì. Non ti chiama mai Onchi. No, mi chiama Mara. È più intimo lui come mentalità. Beh, sì, è più comune insomma, più intimo. Sì. E poi qui, vabbè, altre foto. Io ho le foto dei miei nipoti. Perché ne hai quanti? Tre. Tre nipoti, cioè hai. Tre nipoti. E figlie? Due figlie. Che hai avuto presto? Presto. Io mi sono sposata a 35 anni. Salerno che le ha avute presto, perché ne aveva 25. Mi fai ridere Salerno. Salerno era più giovane. Salerno era 25, quindi. Esatto. E le figlie dopo quanto sono nate? Subito. Salerno si è molto arrabbiato, ha detto, potevi aspettare due minuti, ma sai, a 35 dovevo fare in fretta. È certo. Ti diverte a stare con i nipoti? Mi diverte, sì, mi divertono molto. Adesso più che mai, perché adesso uno ha nove anni, la mia sei, gli scuola, e poi fanno molto ridere. E in tv ti vedono? Beh, mi vedono purtroppo e mi sentono, ma insomma si saranno rassegnati. Eh, vabbè, ma sì, figura. E vabbè, dopo li dici, devo dire le parolaggini, ma sono mia nonna, dice le parolaggini. Eh, vabbè, sì, ma gli sto lavorando. Eh, già, questo è un tinello dove si mangiamo. Ah, qui è la sala da pranzo? Sì. Un arredamento classico? Sì. Ti piace? Sì, abbastanza. Sei appassionata della regina, quindi. No, ma sono classica come, come. Sono comode? Sì, abbastanza. Sono fragili però, perché sono dell'ottocento di mia suocera, che ce le ha regalate quando ci siamo sposati e devo dire, sì, classico. Questi sono quadri, eh? Ma sì, che sono quadri? No, ma non, sembrano fotografie, invece no. Ah, invece sono fatti, sono dipinti? Sì, sì, quello l'aveva dipinto mio suocero, che era la Costiera Amalfitana, che era l'autore di Carusone, Niso. Ah, beh, certo, perché Alberto è figlio Salerno, scusa, è figlio d'arte, insomma. Questo, guarda che carino. Che cosa? Questo terrazzo. Ah, bellino, sì, molto bellino. Che dà su questo bruttissimo luogo che è, no, no, ti spiego, senza i fiori diventa proprio il tetto, il tetto dei box. Invece ci abbiamo messo, io e la mia vicina, tutte quelle piante lì che fanno come se fosse un giardinetto, carino. Ah, bene, tutto, ma quindi sono le tue le piante laggiù? Sono le mie, sono, le abbiamo regalate. Ma se fosse un pollice verde? No, sono una merdaccia. Non ci riesce. Però, questo, vedi, questo verde qui dà un senso, un po' tipo giardino. Eh, sì, ma con i vicini vado d'accordo? Io vado d'accordo, però non vogliono spendere neanche una lira per il giardino. Eh, va beh. Però li spendo volentieri io, perché noi usufruiamo di... Eh, certo. Eh, lo vedi? Ma ci viene in terrazza qui? No. Mai? No, però se lascio aperto la porta, adesso perché è freschino. Entra un po' di fresco, dici te, certo, certo, certo. E la cucina? Vieni. Tradizionale. Tradizionale, funzionale. Tutto funzionale. Funzionale, ma tu cucini? Sì, certo. Ah, ti piace cucinare? Mi piace. Lo faccio e non lo faccio neanche male a essersi. Ma la cosa meglio che ti viene? Beh, tante cose, gli arrosti, il ragù, ce n'è tanta. Quante ore lo fa andare il ragù? Tante. Tante ore? Sì, almeno quattro. La Berti va detto otto. Se lo vuoi buono e saporito. Otto, la Berti, dice. Eh, beh, certo. Poi la Berti è emiliana, per cui se... Io lo faccio dare quattro o cinque ore, sì, sì. Eh, sì, sì, ma insomma, soltanto anche quattro o cinque ore. Eh, beh, ma però deve cuocere molto. Eh, sì, sì. Questa è tutto un po' di pasticci. C'ho l'irlandese che ride lassù. Ah, eccoli, cosa, San Patrizio. Sì. E il frigo dov'è? Ah, è questo? Sì. Posso sbirciare il frigo? Certo. Può? Sì, certo. E vabbè, un frigo, insomma... Ma... Sì, abbastanza sufficiente. Sì, sì, sì. E poi c'è anche sotto, che è grandissimo. Per le verdure? Sì, no, le verdure di Salerno. Ah, lo usa solo? Sì, sì, sì. Io un frigo a mano. Ah, lui usa la macchina? Lui usa la macchina, per salerno. È moderno. Vabbè, è comoda. Non è un modello. Perché friggi a mano? Questa non fa la puzza, poi? No. Eh, questo è già... Usano anche te. Ma ci sono anche le finestre, voglio, si possono tenere aperte. È una cosa comoda. No, beh, insomma, è un po' accatastata, però a me piace. È comodo questo, vedi? Questo è comodo. Ah, la dispensina. Eh, sì. Eh, certo, sì. Questo è comodo. I fagioli. No, sì, c'è di tutto, perché noi, i miei figli dicono che abbiamo sempre paura di morire di fame. Ah, fate le scorte? Sì. Un po', un po'. Senza esagerare. Questo è per fare l'acqua gasata. Ah, sì, 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 questo è famoso, sì. E la fai? Sì, perché vedi, scusa, c'ho l'acqua, quella che viene... Ah, questa è quella che viene purificata. Esatto. È comodo questo, eh? Sì, 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 molto comodo. Apriolo di più. Ecco, adesso è entrato in funzione. Ci metto un po', però, insomma. Sì, vabbè, insomma, insomma, ce la fai. E poi, sì, per fare... E poi non metti lì, è il Salerno che fa queste robe. Ah, il Salerno, le fai te. No. Ma queste cose sono le lente di ingrandimento. Sì, perché siccome ci vediamo bene tutti, usiamo la lente di ingrandimento. Anche Salerno non ci vede bene, eh? No, beh, insomma, anche lui c'ha 70 anni, scusa. Guarda bellina. Bellina? Molto bellina. Di dove sei te? Toscana. Ah, anche mio nonno era toscano, di Lucca. Ah, ma veramente? Mio padre è lucchese. Ma io un chice solo nella Lucchese. Quindi sei mezza toscana? Sì, sì. È quello anche che dici, no? Eh, le parolacce. Sì, è quello sicuro. E quella dietro chi è? La mamma di Alberto. Ah, la mamma di Alberto. Vedi che ho detto Alberto, con la mamma, eh? Vedi che forse se ti intenerisci un po' lo chiami Alberto. Posso vedere questa stanza? No, è un corridoio. Ah, è un corridoio? Beh, sono un bel corridoio. Sì, vedi, qui sono le mie figlie. Belle, belline. Questi sono i quadri che mi ha fatto quando facevo il riscatto. Della gente che non conosce. Dirti che ha un pregio eccedente. È caldissimo, caldissimo. Ah, è caldo? Sì, poi c'è tutti i miei estrafi, c'è le mie creme, balocchi, profumi e balocchi. Ti trucchi te? Sì. Quasi sempre? No, non sempre. Non sempre. Quasi sempre. Poi c'è la Francesca che invece fa il massimo. Poi che ti lascia c'è. Ah, ma è la doccia che la fai qui? Sì. Ah, c'è la doccia qui? Certo. Ah, è... Con un relativo seduta. Ah, e ti siedi? No, mi siedi e mi sapono bene, manca. A me poi dopo ando sotto la doccia. Ci stai tanto sotto la doccia. Certo, mi piace molto. Ti rilassi. Comodi. Adesso non rompecoglioni e cantare. Eh, sì. E poi soprattutto quando devo andare, perché sai, quando vivi insieme, quando devi andare in bagno hai subito il dramma del... Aspetta, ma non mi puoi far vedere qui, qui, cosa... E lì, di là c'è il Salerno Feroce. Ah, perché c'è il suo studio? C'è lo studio, poi c'è un'altra camera dove gioca. Dove gioca? Sì, con tutte le sue macchinette. Io non amo giocare. Lui fa le partite, i campionati di calcio mondiali, fa tutte le sue... Ah, ma la Playstation gioca. La Playstation e poi non solo la Playstation. Sì, a lui... Se non ci giochi con la Playstation. No, io non amo la Playstation. Non ami la Playstation? Ah, avrei detto. Eh, vedo, quello lì è il quadro originale del disco di Bernato. Questo qua? Sì. Ah, vedi. Quindi autografato. No, ma poi fatto da lui, eh. Ah, l'ha fatto proprio lui? Sì, sì. Era bellissimo. Questa sono io incinta di nove mesi. Oh, vedi che c'è una foto. Sì, una foto. Eh, che cavolo.